Juventus Lecce 2 a 1, Vlaovic blocca e torna in porta, Bonucci prende la difesa. Pogba lampeggia, chiesa cattiva. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Scesni 6.5, sul posto di rigore vede il lato destro ma non può intervenire in tempo, ma sul secondo è molto buono in doppia chance per C6 e Baschirotto e salva la Juve in più di una circostanza. Sempre presente. Desciglio 5, il difensore bianconero è stato costretto in barella a causa di un infortunio al ginocchio. Da questo lato banda spesso lo costringe a soffrire, cerca di apparire in attacco, ma senza fare grandi cose. In trentaduesimo, quadrade 4.5, Bede entra in gioco, banda salta continuamente e anche in attacco sembra distratto e non decisivo, manca qualche passo importante. Rischia molto. Bonucci 7, grande ritorno in stadio dal primo minuto per il capitano bianconero che si riscatta dopo la gara contro l'Inter, guidando la difesa senza fallo e facendo almeno due difese decisive per la vittoria. Concludi la gara con il turbante, degno del miglior chiellini che rispetti. Bremer 6, la fisicità di C6 e la velocità di banda soffrono molto, rischia più di qualche volta e prende un giallo che non fa dormire Allegri, costretto a rimuoverlo in vista di Atalanta. Danilo 6, C6 e banda li fanno girare la testa, come il resto della difesa bianconera, oltre a dare un calcio di rigore a Lecce che potrebbe mettere in difficoltà la squadra, saltando con le braccia rotte. Anche se è molto generoso come un peccato. Avrebbe potuto fare meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.